Ciao a tutti, vediamo alcuni problemi di trigonometria. Questo è il primo problema. Abbiamo un triangolo ABC, CH è l'altezza relativa al lato AB, AH ha lunghezza 6 cm, gli angoli qui rappresentati hanno ampiezza di 20 gradi e 40 gradi. Dobbiamo calcolare perimetro e area del triangolo. Notiamo che questo triangolo, grazie al fatto che qui abbiamo l'altezza CH, viene diviso in due triangoli rettangoli, perciò noi qui possiamo usare i teoremi sui triangoli rettangoli. Ad esempio noi sappiamo che AH è uguale all'ipotenusa di questo triangolo rettangolo, cioè AC, per il seno dell'angolo opposto, che possiamo chiamare questo α, questo lo chiamiamo beta, e qui possiamo ricavare quanto vale AC. È il rapporto tra la lunghezza di AH, che è 6 cm, e il seno dell'angolo α, seno di 20 gradi. Otteniamo circa 17,5 cm. Abbiamo bisogno del lato BC e del lato AB. Pertanto possiamo ricavare CH, che è l'ipotenusa AC che abbiamo appena determinato, per il coseno dell'angolo di 20 gradi, coseno di α, e otteniamo circa 16,4 cm. Conoscere CH ci consente di determinare l'ipotenusa BC, perché noi possiamo scrivere che CH è uguale a BC per il coseno di 40 gradi, da cui possiamo ricavare quanto vale BC, oppure noi possiamo usare il secondo teorema e scrivere che BH è uguale a CH per la tangente di 40 gradi. Con questa seconda strada noi abbiamo i due cateti, CH e BH, e possiamo ricavare BC con il teorema di Pitagora. Con la prima strada ricaviamo BC, dopodiché, avendo sia BC che CH, possiamo determinare BH con il teorema di Pitagora. Quindi sono due strade alternative che dovranno portare inevitabilmente agli stessi risultati. Scegliamo la seconda strada perché mi è più comodo qui come spazio, perciò scriviamo che BH è uguale a 16,4 cm per la tangente di 40 gradi e questo ci dà come risultato 13,8 cm e ora possiamo scrivere che BC è uguale alla radice quadrata di questo 13,8 al quadrato più 16,4 al quadrato, tutto sotto radice. Questo ci dà 21,4 cm. Il perimetro è la somma di AC più BC più AB, però attenzione noi non abbiamo direttamente AB ma abbiamo sia H che HB, quindi non faremo altro che AC più BC più AH più HB. Otteniamo 58,7 cm. Per l'area possiamo usare la formula dell'area oppure considerare che abbiamo l'altezza e quindi possiamo scrivere direttamente base per altezza diviso 2, cioè l'area sarà uguale a un mezzo per AB per CH. AB nuovamente abbiamo AH più HB quindi è 19,8, perciò abbiamo un mezzo per 19,8 per 16,4 e questo è il risultato. In una circonferenza di lunghezza 12π determina la lunghezza di una corda il cui angolo al centro è di 60 gradi. La prima cosa da fare è considerare che un angolo alla circonferenza è la metà del corrispondente angolo al centro, perciò se indichiamo con α l'angolo alla circonferenza avremo che è uguale a 60 gradi diviso 2, quindi a 30 gradi. Perciò se supponiamo che questo sia l'angolo al centro di 60 gradi, questo è l'angolo α di 30 gradi. Qui abbiamo la corda AB, dobbiamo determinarne la lunghezza. Intanto per determinare la lunghezza della corda usiamo il teorema della corda, quindi AB è uguale a 2 volte il raggio per il seno di questo angolo α. Non conosciamo il raggio ma conosciamo la lunghezza della circonferenza. Sappiamo che la lunghezza di una circonferenza è 2πr, pertanto r sarà la lunghezza diviso 2π. La lunghezza è 12π diviso 2π ci dà 6. A questo punto per trovare la corda faremo AB uguale a 2 volte il raggio, cioè 12, per il seno di 30 gradi, che è un mezzo e quindi otteniamo che la corda è lunga 6. Ora ci viene richiesto di risolvere il triangolo che ha questi due lati, A uguale 18 e B uguale 36 e l'angolo di 45 gradi. Utilizzando le classiche convenzioni α sarà l'angolo opposto al lato A. Come vediamo in questo disegno tratto dal video precedente che se non hai visto ti invito a vedere, lascio qua su in alto a destra il link perché in quel video ho parlato dei teoremi sui triangoli qualunque, quindi il teorema dei seni e il teorema del coseno. Utilizzeremo proprio il teorema dei seni. Perciò possiamo scrivere che A fratto seno di alfa è uguale a B fratto il seno di beta perché così abbiamo tre dati noti e un'incognita. L'incognita è il seno di beta che ricaveremo facendo B su A per il seno di alfa. B su A è uguale a 36 diviso 18 che fa 2. Il seno di alfa è il seno di 45 gradi che è radice di 2 fratto 2. Otteniamo radice di 2 ma attenzione bisogna sempre lavorare in modo critico. Il seno di beta può essere uguale alla radice quadrata di 2? No perché il seno di qualunque angolo deve essere compreso tra meno 1 e 1 e radice di 2 è maggiore di 1. Pertanto questo problema non ha soluzione. Risolviamo questo triangolo nel quale abbiamo due lati noti e un angolo noto ed è l'angolo compreso tra i due lati. Questo è un caso abbastanza semplice che si risolve utilizzando il teorema del coseno perché noi qui abbiamo A e B e possiamo calcolare C in quanto C al quadrato è uguale a A al quadrato più B al quadrato meno il doppio prodotto A per B per il coseno dell'angolo compreso. A noi serve C che sarà la radice quadrata di quello che abbiamo scritto qua sopra. Abbiamo i dati a disposizione. Otteniamo 19,3. Ora possiamo usare ancora il teorema del coseno. Possiamo determinare ad esempio beta considerando che è l'angolo compreso tra A e C perciò scriveremo B al quadrato uguale A al quadrato più C al quadrato meno 2AC coseno di beta vedete che se abbiamo beta è l'angolo compreso tra A e C se abbiamo alfa è tra B e C quindi da qui possiamo scrivere che il coseno di beta è uguale ad A al quadrato più C al quadrato meno B al quadrato tutto diviso 2AC e da qui usando la funzione inversa del coseno sulla calcolatrice ricaviamo circa 75 gradi e se beta e gamma sono noti alfa sarà 180 gradi meno la somma di questi due 75 più 68 otteniamo un valore approssimato di 37 gradi. Questo video termina qui. Nel prossimo vedremo alcuni problemi decisamente più impegnativi perché richiederanno di lavorare maggiormente dal punto di vista geometrico pertanto io vi do appuntamento al prossimo video vi ringrazio e alla prossima ciao